Prosegue senza intoppi la preparazione del vittore al comunale in avvicinamento agli impegni che contano, coppita le dilettanti in testa. Ieri vivace partitella contro gli allievi del Caltagirone, una gara che fa seguito a quella disputata domenica scorsa contro il Gela. Questa prima fase della preparazione procede secondo i programmi addichiarati il direttore generale Luca D'Agosta con la squadra che, nonostante sia quasi tutta nuova, comincia pian piano a ritrovarsi a tutte le potenzialità per poter disputare un campionato di vertice, tra l'altro si tratta di un organico senza neppure un trentenne e questa dimostrazione, rimarca D'Agosta, della linea intrapresa dalla dirigenza. Il mercato è comunque ancora aperto e la società è alla ricerca di un giovane attaccante. L'imperativo in ogni caso è cercare di avere un organico non molto folto e quindi dando possibilità al tecnico di poter lavorare meglio. Chi non ricorda certe vigili pre-campionato del vittorio con 35 e anche 40 giocatori nella fase della preparazione, ma sono ormai finiti quei tempi e oggi si lavora su un gruppo ristretto di atleti. Dovrebbe essere un bene e un vantaggio per tutti, società e staff tecnico compresi. Grazie a tutti.